Olmi è una persona indefinibile perché è una persona buona, una persona brava, una persona che ha lavorato con noi di una pazienza, non ci ha mai fatto studiare niente, veniva lì lui prima, ci raccontava la scena e come doveva andare, finché vedeva che eravamo entrati nel personaggio, da lì partivano e girava la scena. Ho studiato a memoria solo la parte che quando vado in chiesa a pregare Gesù perché là c'è un crucifisso in quella chiesa, a pregare Gesù perché mi guarisse la mucca, lì ho dovuto studiarlo un po' perché di solito lo imparo così subito perché è una buona memoria, ero molto emozionata perché quella scena io l'avevo vissuta realmente a casa mia, era successo anche a casa mia, che ha chiamato il prete a benedire e lei è un cavallo invece che la mucca e che si è alzato in piedi e quando ho girato perché mi diceva le cose al momento, non lo sapeva che c'era anche questa scena perché altrimenti glielo avrei raccontato che anche noi avevamo, nelle cascine era così, non avevamo i soldi di chiamare il veterinario, si andava a chiamare il prete e poi perché si aveva tanta fede, diciamo che il nostro cavallo si è alzato in piedi, grazie a Dio. Guardi io ho 11 nipoti, la più grande ha 30 qualcos'anni e il più piccolo ha 7 anni, andiamo a finire un po' di volte su questi discorsi, gli dico non voglio che voi abbiate a vivere questa vita che abbiamo vissuto noi, però imparate da noi ad avere un po' più di pazienza, un po' più di umiltà, che si può avere tutto, la prepotenza, l'arroganza, il bullismo specialmente, sono cose che fanno male a tutti, capito? Ecco vorrei insegnare questo, di essere un po' più buoni, volersi bene, rispettare le persone, questo vorrei.